vedi alla voce resilienza per spiegare meglio il concetto relativamente nuovo ma che già imperverso un po dappertutto si potrebbe guardare proprio a trieste e quando verrà scritta la storia del parco del mare presentato ieri anche adesso bisognerà fare riferimento il tutto è stato espresso ieri in un post da vittorio sgueglia della marra portavoce del sindaco di piazza che ricordava quando antonio paoletti per la prima volta accennò a quello che nel corso degli anni è diventato il suo sogno e che oggi come oggi sembra più a portata di mano era il 2004 il 16 dicembre il luogo parigi l'occasione l'attribuzione dell'expo del 2008 cui trieste concorreva la cerimonia venne seguita in diretta da telequattro con una troupe nella capitale francese i giornalisti erano paolo picchieri e lo stesso della marra e un collegamento con piazza unità ufficiato da daniela ferletta dove triestini grazie ad un mega schermo potevano a loro volta a seguirne i momenti salienti trieste non vinse le fu preferita saragozza e in piazza la delusione fu cocente ed anche a parigi i musi lunghi non si contarono fra i componenti la delegazione le ragioni del successo di saragozza che quattro anni dopo non portò ad un expo particolarmente felice sono ancora tutte da capire ma cosa fatta capoebbe fin da subito fu allora che antonio paoletti intervistato da telequattro proprio a parigi pur esprimendo la delusione per la bocciatura della candidatura triestina ebbe a dire non abbiamo vinto l'expo ma stiamo già lavorando al progetto di un grande acquario per garantire a trieste un attrattore capace di farci crescere sul piano turistico ed economico ecco spiegata la resilienza partire da una delusione se non da una sconfitta immaginare un possibile nuovo obiettivo e partire lancia in resta